eccoci siamo qui su bridges of light ponti di luce è un venerdì sera siamo ormai nel mese di dicembre siamo entrati nel mese delle feste natalizie sono le 21 e 30 ed eccomi qua io sono arianna mendo mi presento anche per chi chiaramente magari si collega non mi conosce perché ogni tanto ci sono comunque persone nuove che si collegano e con molto piacere vi terrò compagnia per un'ora e mezza con la mia amata disciplina delle stelle e spero di far amare questa disciplina anche a voi certamente ho visto durante questa serie di incontri che molte delle persone che seguono queste dirette conoscono già comunque l'astrologia ma altre sono anche un po nuove a questo tipo di disciplina mi fa piacere anche proprio che seguano persone un pochino più distanti e che si stanno approcciando no questo è anche l'utilità di queste dirette che fanno appunto avvicinare a nuove discipline e quindi molto bene no come sempre una gioia per me essere qui io vi saluto da tenerife dove passo di solito da qualche anno a questa parte l'inverno sono partita a fine ottobre e quindi ecco sono qui in questo luogo che certamente al momento è molto più caldo rispetto all'Italia e in Italia ho saputo visto anche da foto eccetera che è anche nevicato e quindi davvero l'inverno è arrivato ma la neve fa anche sempre piacere no prima delle feste di Natale e quindi vi saluto tutti vi ringrazio per essere qui e cominciò anche a fare qualche saluto direttamente a Sara innanzitutto che mi ha salutato ciao benvenuta qui a Evie carissima che ti so essere appunto nella bella Sardegna grazie anche a te per essere qui conosco bene la tua passione astrologica quindi grazie e anche a Cristina che mi saluta grazie per essere qui Evagna grazie ancora Evagna saluta anche Enrico che certamente è sempre dietro alla regia quando non è presente direttamente quindi grazie anche a te Evagna sempre molto presente e grande studiosa anche di astrologia quindi saluto anche Susi ciao carissima piacere di rivederti rivederti qua spero che mi sentiate bene perché questa sera la connessione forse un po meno buona del solito sarà un po per magari anche tutti questi movimenti un po di perturbazione che ci sono in giro nei cieli in questo periodo e bene quindi benissimo continuiamo appunto questa sera dopo l'interruzione della scorsa volta in cui ho avuto la gioia l'onore di presentare il fondatore di erba sacra la scuola olistica online Sebastiano Arena nonché grande conoscitore della numerologia e di diverse altre scienze psichiche questa sera riprendiamo il percorso astrologico e questo percorso lo continueremo anche la prossima settimana e poi la chicca prima delle vacanze di Natale sarà quella di presentare un po' le previsioni per i segni per il 2021 che si sta avvicinando sarà quindi un momento speciale perché tutti i segni potranno quindi vedere un po' che cosa li attende e daremo proprio uno sguardo anche a questo cielo che sta per cambiare sensibilmente proprio alla fine di questo 2020 bene Palmira grazie per essere qui molto piacere che tu sia anche presente e chiaramente mando un saluto anche a chi poi mi vedrà indifferita perché ci sono persone che non possono essere presenti appunto in diretta e so che mi seguiranno in altri momenti e quindi ringrazio anche voi che mi seguite magari appunto dopo ecco quindi stavo appunto facendo un po' l'anteprima quindi proprio prima di Natale avremo questa diretta legata alle previsioni dei segni per il nuovo anno saluto anche Maria Assunta ciao tu da Trento quindi dal nord quindi abbiamo il sud il nord Giuliana ciao carissima che piacere anche Giuliana dalla Sardegna grazie per essere qui e poi Barbara ciao ecco quindi sarà appunto una puntata speciale poi quella che faremo proprio prima di Natale in cui dare anche qualche consiglio un po' come affrontare poi il nuovo anno che sta arrivando e che ci porta dei cambiamenti stellari molto interessanti Ivana carissima benvenuta anche a te in questo spazio che come dico è sempre un po' come una famiglia che si ritrova no? o una cerca di amici distanti ma vicini no? e quindi ci ritroviamo come se fossimo un po' di fronte siccome è Natale inverno di fronte a un caminetto acceso e insieme appunto seguire questi argomenti che ci appassionano e poi pensate che io sarò comunque con voi proprio la sera di Natale perché comunque Bridges of Light non si ferma neanche per le feste e per me sarà un grande piacere essere con voi proprio quella sera e allora quella sera mi dedicherò lo faremo insieme in quel caso davvero perché sarà un rituale per la fine dell'anno e sarò poi con voi anche il primo dell'anno proprio quella sera lì e quella sera allora faremo un rituale insieme per l'intento che ritengo sia molto importante proprio a inizio anno quindi insomma avremo occasioni proprio di trovarci nei momenti clou dell'anno così speciali e per me sarà veramente una gioia passarli insieme a voi no? e quindi avere questa occasione di essere insieme in queste due giornate così speciali che ci attendono no? e che ci riportano fanno finire un ciclo e ci riportano un ciclo nuovo e sì l'astrologia è proprio questo che ci insegna che la vita è un ciclo e così lo vediamo passare attraverso le stagioni ma anche attraverso questi movimenti planetari che si rinnovano continuamente continuo a fare qualche altro saluto prima ancora di entrare nel vivo della nostra serata Linda carissima ciao un'altra appassionata di astrologia Carolina buonasera anche a te e poi Elisabetta ciao carissima che mi segui sempre con tanto affetto Antonella anche tu e poi vedo Lidia ciao Lidia grazie per essere qui ecco siamo già numerosi e quindi possiamo cominciare ad addentrarci nell'argomento di questa sera che è dedicato a Mercurio il piccolo pianeta che si trova sempre molto molto vicino al sole e per questo motivo è un pianeta non sempre facile da vedere perché il sole appunto non lo permette poi è piccolino per cui non è sempre così facile però è bello quando è visibile nel cielo quindi è molto bello poterlo vedere saluto anche Simonetta intanto grazie Simonetta per la tua presenza così come Enza grazie infinite per essere qui ecco quindi stavo appunto dicendo che appunto Mercurio è molto piccolo però proprio per la sua vicinanza al sole ecco che Mercurio e saluto anche Francesca ciao ecco ti non potevi mancare ormai stai seguendo queste dirette con molta passione mi fa molto piacere grazie Francesca e dicevo i pianeti comunque che sono molto vicini al sole sono molto molto importanti nel nostro sviluppo evolutivo perché questo? perché siccome il sole è l'astro appunto che determina il nostro compito primario nel momento in cui ci incarniamo è in effetti l'astro che dà la vita sul nostro pianeta ecco quindi che i due pianeti cioè Mercurio e Venere che si trovano molto vicini al sole sono davvero determinanti nel nostro sviluppo personale nella nostra crescita evolutiva stavo appunto dicendo che il sole è quell'astro che determina il nostro compito primario ed è quell'astro che determina anche il fatto che l'anima scendendo in un determinato segno desidera in particolare sperimentare alcune caratteristiche alcune tematiche che sono legate appunto al segno in cui si scende su questo piano vibratorio per cui è davvero l'astro che ha l'energia fondamentale nel nostro cielo anche la posizione in cui si trova quindi nel nostro tema di nascita in questo bellissimo mandala oroscopico determina moltissimo i campi o il campo preferenziale in cui l'energia solare si svilupperà e per questo motivo proprio perché Mercurio e anche Venere sono molto vicini al sole quindi determinano anche loro degli aspetti davvero fondamentali nella nostra crescita appunto come stavo dicendo evolutiva quindi sono dei pianeti da prendere proprio con la massima considerazione certo in questo viaggio lungo gli archetipi planetari che sta volgendo man mano al termine abbiamo già passato in esame tanti archetipi planetari abbiamo visto come ognuno sia importante per la nostra crescita il nostro cammino qui sulla terra assolutamente infatti i pianeti sono delle vere proprie coscienze a cui noi siamo collegati che ci aiutano proprio mandando i loro strali nel nostro cammino di vita in vita intanto approfitto per salutare Rosanna buonasera e dare anche il benvenuto a Roberta ciao e grazie per essere in questo spazio quindi vediamo allora Mercurio se voi avete avuto modo di leggere quello che ho appunto scritto anche nel post oggi per Bridges of Light per invitarvi in questo spazio avete visto che io ho scritto appunto che Mercurio è il pianeta è l'astro della comunicazione è l'astro della parola dei pensieri è l'astro legato anche alla flessibilità quindi sono tutti aspetti assolutamente fondamentali pensiamo appunto alla comunicazione la comunicazione per noi è assolutamente fondamentale intanto Mercurio parlando di comunicazione ci dice subito che appunto ci rivela subito una verità di questo nostro cosmo e di quello che poi ha anche la vita sulla terra e cioè che tutto è scambio tutto quindi è collegato tutto è in relazione e infatti Mercurio è il pianeta proprio legato alle relazioni tutto in relazione tutto è interconnesso quindi ci riporta a una verità fondamentale su cui si basa l'universo noi sappiamo come l'astrologia in passato fosse proprio la scienza sacra per eccellenza perché attraverso appunto questi archetipi riportava le conoscenze fondamentali di come funziona l'universo saluto anche Cecilia grazie anche a te di nuovo per essere qui che mi stai seguendo appunto con molto affetto ovviamente il mio affetto per ognuno di voi è ricambiato assolutamente ecco quindi proprio questo ci riporta subito a questo aspetto fondamentale ecco questo aspetto fondamentale proprio di essere un pianeta di connessione che ci fa capire proprio questa realtà fondamentale quindi Mercurio nel nostro cielo di nascita a seconda appunto della sua posizione nel segno in cui si viene a trovare oppure anche nei rapporti che ha con gli altri pianeti ci fa capire anche quanto noi siamo facilitati a metterci in contatto con gli altri proprio a entrare in questa connessione relazionale con gli altri rappresentando proprio la comunicazione ecco volevo però prima di siccome ho accennato questo aspetto fondamentale di scambio di Mercurio raccontare un po' nella mitologia in particolare la mitologia greca chi era appunto Mercurio quindi ho preso qualche appunto quindi ovviamente per non dimenticare i vari aspetti quindi della mitologia greca Mercurio è figlio di Zeus quindi è figlio proprio diciamo del dio massimo e della ninfa maia appena nato aveva già pensato era già così vivace così sveglio proprio che aveva già inventato la lira e l'aveva inventata dalla corazza di una tartaruga poi subito dopo riesce anche a rubare delle mucche ad Apollo proprio per questo viene scoperto e anche portato giudizio da Zeus che insieme allo stesso Apollo il dio solare vennero però ambedue così colpiti da questa astuzia da questa abilità di questo bambino da non punirlo a patto che però restituisse appunto la refurtiva Mercurio che poi rappresenta anche proprio l'intelligenza l'abilità anche un po' a volte l'opportunismo cosa fa? non solo restituisce la refurtiva queste mucche che aveva rubato ad Apollo ma fa dono ad Apollo anche di questa lira che aveva inventato e che poi diventerà anche un simbolo proprio del dio Apollo allora questo è molto interessante questo aspetto perché che cosa ci fa capire intanto appunto questa agilità mentale proprio questa capacità anche furba di Mercurio e il suo rapporto molto stretto anche con la musica e anche con quelle che sono le abilità manuali perché Mercurio queste abilità ce le ha assolutamente quindi ecco questi sono alcuni aspetti su cui riflettere di Mercurio un altro aspetto interessante di Mercurio è che Mercurio unendosi a Venere proprio questo altro pianeta così vicino al sole di cui parleremo nel nostro prossimo incontro produce nel mito greco un essere ermafrodita quindi in realtà un essere che ha in sé sia i tratti femminili che i tratti maschili e in effetti Mercurio dal punto di vista dell'età dell'uomo è collegato in particolare ai giovani agli adolescenti quando è il momento in cui praticamente man mano poi si comincia a identificare il sesso in maniera più precisa perché quando poi nascono anche gli impulsi appunto sessuali ecco quindi Mercurio rappresenta anche questa unione cioè la capacità di unire appunto le due parti e siccome Mercurio è appunto questo rappresentante delle varie parti che si possono unire dentro di noi rappresenta nel segno di cui è governatore che è il segno dei gemelli rappresenta proprio questa ricerca dell'unione delle varie parti che sono dentro di noi perché noi abbiamo appunto dentro di noi tanti tantissimi aspetti e sta poi man mano a noi unirli e metterli insieme per formare un tutt'uno integrare bene la nostra personalità e d'altra parte il mandala oroscopico cioè il nostro tema di nascita è proprio questo cioè ci rappresenta tutti i pianeti ognuno con la sua voce perché sono voci diverse planetarie che nel corso della vita conoscendole possiamo man mano integrare dentro di noi a volte questa integrazione più facile a volte anche un pochino più complessa ma è questo a cui noi siamo poi portati e questo lo spiegava anche molto bene il grande Roberto Assaggioli lo psicanalista che diceva che noi siamo un insieme di voci che vanno appunto unite messe insieme per formare questa orchestra quindi possiamo anche vedere il nostro cielo di nascita proprio come un'orchestra con tanti strumenti ognuno con la sua voce ecco e quindi è proprio questo unire le varie parti ecco mi viene adesso detto un po' come il Papa nei Tarocchi sì il Papa nei Tarocchi in effetti è un veicolo che unisce cielo e terra in particolare e poi tutto viene unito da cosa dal cuore ed è per questo che io ho tenuto Venere alla fine del nostro percorso siccome Venere è collegata all'aspetto proprio del cuore ecco ok quindi questo è un altro aspetto interessante di Mercurio su cui riflettere perché studiare gli archetipi proprio ci fa riflettere su vari aspetti proprio della composizione dell'universo della creazione e dell'essere umano quindi Mercurio rappresenta appunto questo aspetto anche delle polarità che cessano di esistere a un certo punto unificandosi quindi Mercurio è anche un principio unificatore attraverso però lo scambio questo è il punto che unisce lo scambio quindi un campo proprio unificato di coscienza che si viene a creare quindi Mercurio che cos'è anche è l'alchimista effettivamente no Mercurio è l'alchimista così infatti Mercurio era un elemento essenziale per gli alchimisti del medioevo nei loro laboratori è l'alchimista perché ha la capacità appunto di unire gli elementi e farli diventare una cosa sola quindi una capacità straordinaria e proprio per questa capacità di unire vari piani Mercurio chi era anche sempre nel mito greco era anche colui che traghettava verso l'altra dimensione era infatti aveva anche questa accezione di essere psicopompo quindi traghettava le anime dei defunti nelle altre dimensioni tra l'altro oltre a questo Mercurio oltre a essere il traghettatore Mercurio cosa faceva anche nell'Olimpo era colui che portava i messaggi ai vari dei era proprio lui il messaggero e infatti Mercurio come viene ritratto dai greci viene ritratto come un giovinetto alato le ali sono ai piedi perché è appunto veloce e porta queste diverse diversi messaggi diverse comunicazioni sì giovane perché Mercurio è comunque agile veloce in questi scambi quindi viene proprio rappresentato in questo modo ma c'era ancora un'altra accezione di Mercurio che è il principio come dicevo attivo che trasmette e trasmuta per i greci che lo chiamavano Hermes tra l'altro era anche tetrachefalos cioè il dio dalle quattro teste perché era considerato il dio dei cambiamenti ma questa è sempre un'accezione legata a questa comunque capacità di trasmutare molto intelligente perché ricordiamoci che Hermes questo Hermes greco ci riporta poi a questa figura che ci arriva dall'antico Egitto che era quella di Hermete Trismegisto il tre volte grande colui che possedeva la conoscenza dei principi primi dell'universo il grande saggio anzi il tre volte saggio appunto quindi ci riporta proprio alla conoscenza alla sapienza certo perché Mercurio guida il mentale guida il pensiero quindi un aspetto molto molto importante e guida il pensiero quindi come guida questo pensiero lo guida anche attraverso quindi il desiderio di conoscere un profondo desiderio di conoscenza ma anche attraverso la capacità inventiva che arriva sempre attraverso il pensiero Mercurio è molto creativo e infatti le persone molto guidate da Mercurio molto mercuriali sono persone assolutamente creative e veramente in grado di avere anche tantissime idee proprio è proprio una capacità questa mercuriale sì quindi vedete quante straordinarie capacità che possiede Mercurio straordinarie e si riflettono appunto in maniera particolare proprio nel segno d'aria dei gemelli di cui Mercurio è governatore quindi saluto chiaramente in maniera speciale questa sera tutti i gemelli che possono essere in ascolto i gemelli che appunto sono creativi pieni di inventiva che non stanno mai fermi si muovono in continuazione hanno bisogno sempre nella vita di grandi cambiamenti appunto la vita dei gemelli è sempre in tessuta di tantissimi cambiamenti se qualcuno è qui all'ascolto mi può magari anche confermare o magari condividere qualcosa delle vostre vite però è così i gemelli nel corso della loro vita cambiano le persone le situazioni le professioni non rimangono mai uguali a se stessi perché c'è proprio una spinta fortissima al cambiamento no e sono appunto sempre molto molto attivi lo vediamo proprio nella persona stessa che è veramente agile non sta appunto mai ferma assolutamente l'ideale per un gemelli se lavora magari in ufficio avere queste sedie a rotelle per cui si può muovere in continuazione è una cosa bellissima questa per il segno dei gemelli ecco a volte anche poi rappresentano questo aspetto furbo questo aspetto che è la capacità anche attraverso la parola che è la magia più bella per i gemelli di cambiare le cose no metterle sotto altri aspetti a volte anche poi magari utilizzando qualche bugia che può essere proprio un aspetto tipico anche dei gemelli ecco mi chiede qui per esempio Cecilia si vale anche per l'ascendente gemelli certo l'ascendente gemelli dona assolutamente delle capacità e anzi come ho avuto già modo di dire in altre occasioni l'ascendente di solito riesce a portare maggiormente in luce i pregi di una vibrazione perché è già una vibrazione che è stata esperita in altre in molte altre vite precedenti mentre il segno del sole è quel segno che ha bisogno proprio di affrontare le varie tematiche e maggiormente anche i lati ombra dello stessa energia della stessa vibrazione ecco quindi questa grande vitalità proprio dei dei gemelli però quello che anche e poi risponderò certamente anche a Tessusi adesso vediamo però anche l'accezione che ha mercurio nel segno adesso anche della vergine rispondo forse però prima a Susi visto che mi parla sempre di un mercurio gemelli al medio cielo al medio cielo vuol dire che appunto mercurio si trova molto in alto nel cielo è la spinta dell'anima se lo vediamo dal punto di vista evolutivo il mercurio al medio cielo quindi nei gemelli vuol dire che c'è una forte spinta a conoscere c'è certamente un'intelligenza molto vivace e per questo motivo di solito si adattano professioni intellettuali dove si fa uso appunto molto della parte razionale e mentale oppure anche attività a volte possono essere però anche quelle manuali o musicali queste si adattano appunto molto al mercurio in gemelli però ecco c'è una spinta molto forte dell'anima a conoscere a utilizzare il pensiero mi dice è vera sì conosco delle persone dei gemelli e sono proprio così sì perché poi la cosa bella dell'astrologia io dico sempre che ci permette di conoscere gli altri di capire come possono essere e anche quindi ad accettarli perché ognuno di noi è diverso esprime la sua individualità diventiamo sicuramente molto più tolleranti quando conosciamo l'astrologia perché sappiamo che ogni segno ha la sua modalità di espressione ecco volevo appunto dire qualcosa proprio sul pensiero perché oggi come oggi in molte situazioni vedo che il mentale il pensiero viene un po' visto come qualcosa potremmo dire che forse non ci serve non ci serve oppure il mentale non lo so ci prende quasi in giro attenzione a come noi vediamo il mentale attenzione perché stiamo proprio vedendo da queste caratteristiche di mercurio come invece sia fondamentale il pensiero e infatti qui arrivo al segno della vergine perché mercurio si esprime al meglio al massimo si dice esaltato in astrologia nel segno della vergine un segno di terra tra l'altro molto pratico e infatti questo cosa vuol dire anche vuol dire mettere il pensiero le idee poi in funzione di un'attività concreta cioè concretizzare il pensiero attraverso l'azione perché noi siamo qui sulla terra per manifestare e quindi ecco perché mercurio è esaltato nel segno della vergine perché a volte il problema per un mercurio in gemelli come segno di aria è di essere poi troppo dispersivi quindi avere tante idee nella testa ma non metterle poi in pratica oppure un altro problema a volte di chi ha un mercurio molto forte o un mercurio in gemelli o è dei gemelli è quello di interessarsi a tante cose ma non approfondirle mai oppure interessarsi a qualcosa in un dato periodo e poi senza approfondirla troppo lasciarla da parte è giusto seguire diversi interessi quando si ha un'energia così scoppiettante come quella geminiana però è anche vero che occorre anche radicare l'idea nel concreto e anche a volte poi approfondire meglio certi argomenti e invece nella vergine ecco che mercurio può proprio concretizzarsi quindi l'idea che si concretizza mercurio nella vergine è anche molto analitico sa fare delle analisi molto precise ma ci porta anche a un aspetto che è molto interessante e cioè siccome la vergine è il segno che ci porta verso l'autunno il segno che valuta separa seleziona distingue ecco pensiamo a questo noi tutti abbiamo la capacità di imparare a selezionare i pensieri che produciamo è questo che ci insegna mercurio esaltato nel segno della vergine questo allora la mente non è che per forza deve mentire come spesso oggi viene detto certo in certi casi è così non la sappiamo utilizzare oppure facciamo sì che questa mente questi pensieri vengano distorti dalle nostre emozioni perché c'è un rapporto molto forte fra emozioni e pensiero e invece noi abbiamo proprio questa capacità di selezionare i pensieri e decidere cosa far entrare nella nostra testa cosa nutrire di quali pensieri nutrirci ma questa capacità di selezione anche della vergine e così come comunque questo pensiero come elemento creatore primordiale a cui ci riporta mercurio ci riporta all'origine del pensiero che è la chiarezza l'origine del pensiero è la chiarezza il pensiero in origine è chiaro è lucido siamo poi noi che attraverso i nostri vissuti o la nostra emozionalità ecco questo aspetto dell'emozionalità cominciamo magari a produrre dei pensieri invece confusi o dei pensieri negativi e introduciamo questa parte quindi ecco che qui abbiamo l'aspetto veramente esaltato anche del del mercurio nel segno della vergine vabbè qualcuno mi dice un po' pesante a volte la vergine certo se va in eccesso perché qui abbiamo sempre bisogno noi di trovare l'equilibrio se la vergine va in eccesso con il mercurio è chiaro che diventa ipercritica troppo analitica e questo certo non va bene quindi c'è bisogno ognuno di noi ha proprio bisogno ecco perché siamo qui qual è lo scopo evolutivo dobbiamo lavorare per affinare e per portare e far emergere gli aspetti nella loro sfaccettatura più luminosa questo è il nostro compito certo che può diventare pesante perché sempre se noi andiamo agli eccessi così come dicevo prima gli eccessi di un mercurio in gemelli quali sono? è chiaro ci sono questi eccessi però consideriamo bene invece gli aspetti fondamentali di questi archetipi a cosa si riferiscono sono aspetti molto molto interessanti assolutamente fondamentali perché comunque ognuno di noi ha bisogno proprio di affinare anche questa parte mentale ognuno di noi ha bisogno di lavorare tanto su questo aspetto ovviamente ognuno poi nel suo tema ha il suo mercurio ha proprio il suo mercurio a questo punto però prima di continuare siccome io in queste dirette ho fatto anche un parallelo fra i segni i pianeti e i tarocchi chiedo alla regia perché non l'ho preso prima chiedo alla regia sempre utilissima e gentilissima di portarmi il mazzo dei tarocchi perché voglio farvi appunto vedere questo aspetto che stavo dicendo di mercurio esaltato l'idea proprio della chiarezza come si esprime attraverso la carta del sole perché la carta del sole non solo è collegata all'archetipo solare ma è legata proprio all'archetipo anche di mercurio che è rappresentato da due fratelli gemelli infatti eccolo qua i gemelli e di nuovo vediamo la vicinanza sole e mercurio che sono molto vicini ma cosa rappresenta questo sole con mercurio il fatto che il sole appunto con la sua luce porta chiarezza fa risplendere scioglie le ombre ed ecco il pensiero mercuriano quando è chiaro l'origine appunto del pensiero la vediamo proprio ben esposta in questo arcano maggiore dei tarocchi che sappiamo appunto noi che i tarocchi rappresentano il cammino della conoscenza e di come funziona appunto l'universo e l'essere umano ecco bene quindi abbiamo parlato di questi aspetti appunto di mercurio ma non abbiamo ancora terminato da questo punto di vista perché ci sono altre cose che voglio aggiungere intanto stavo dicendo appunto come le emozioni le nostre emozioni che viviamo possono a volte offuscare il nostro pensiero non permettere al nostro pensiero appunto di essere lucido e chiaro no e infatti se noi vediamo il rapporto di mercurio con i chakra mercurio è qui è il chakra della gola perché il chakra della parola della comunicazione no ma questo chakra ci riporta anche alle relazioni e questo chakra è strettamente collegato a quello del cuore no sono strettamente collegati i due ma poi questo chakra è collegato al pensiero questi tre sono strettamente collegati proprio no ci riportano quindi proprio al discorso che vi stavo facendo quindi le nostre emozioni che possono quindi poi finire per offuscare il pensiero ma anche far sì che la nostra parola non sia del tutto chiara a volte possiamo avere paura di esprimere la nostra il nostro pensiero la parola oppure possiamo avere timore della parola che ci arriva dagli altri abbiamo spesso difficoltà ad esprimere la nostra verità autentica tanto è vero che la nostra voce il più delle volte non è la voce nostra autentica ma tutte le esperienze vissute di difficoltà emozionale la possono proprio far cambiare questa voce no la nota profonda è nel cuore e trovandola una volta che noi abbiamo lavorato sulla nostra parte più emozionale trovando la nostra vera nota ecco che riusciremo anche ad esprimere la nostra voce autentica quindi vedete che il discorso è molto molto complesso ma molto interessante no e vediamo proprio come le cose si legano è proprio questo che mercurio ci dice che tutto si lega assolutamente no ecco a questo punto vorrei arrivare anche a dire come si esprime mercurio nei quattro elementi no cioè questo appunto se voi conoscete dove avete mercurio molto spesso abbiamo mercurio nello stesso segno di nascita oppure mercurio può essere nel segno precedente o in quello successivo non oltre a questo proprio perché è sempre vicino al sole allora se abbiamo un mercurio nei segni di fuoco è certamente un mercurio molto molto vivace un mercurio sveglio intelligente che vuole conoscere ed è anche un mercurio che si esprime con una certa forza e intensità proprio nella parola un mercurio nei segni di terra invece un mercurio che ha bisogno di portare appunto le idee a livello pratico è un'intelligenza molto pratica quella di mercurio nei segni di terra quindi un mercurio spesso abbastanza lento nella comprensione al contrario di quello di fuoco però è un mercurio che apprende sì gradualmente ma difficilmente poi dimentica ciò che impara il mercurio nei segni di aria è chiaramente il mercurio più facilitato è un mercurio che assolutamente ha bisogno di contatto con gli altri di stare in mezzo agli altri ha bisogno di utilizzare la parola e quindi lì si adattano poi tutte quelle attività che sono legate proprio all'espressione della comunicazione della parola dell'intelligenza e chiaramente sono persone quelle che hanno un mercurio nei segni di aria intelligenti e che hanno tantissime idee spesso poi ci sono doti legati appunto al saper parlare al saper scrivere classiche doti mercuriane mercurio invece nei segni d'acqua entra in contatto con il sentire e quindi diventa particolarmente percettivo sensibile sensitivo è il mercurio sensitivo è quello che dona proprio capacità percettive profonde telepatiche medianiche molte volte ecco questo è il mercurio mercurio che non ha necessariamente bisogno di esprimersi con la parola anzi molte volte ha anche timore di esprimersi con la parola è introverso può avere proprio difficoltà però riesce ad esprimersi proprio su canali molto molto più sottili allora a questo punto ringrazio anche Vera che mi dice che è interessante certo lo studio guardate degli archetipi è qualcosa di bellissimo ci sarebbe da dire veramente tanto tanto no voglio appunto ah sì no però ce l'ho sul computer scusate ecco portarvi appunto l'esempio di qualche personaggio famoso con un mercurio importante perché questo anche ci fa capire come si può esprimere appunto mercurio no quindi vediamo qualche personaggio mi sono fatta qualche annotazione per esempio lo possiamo trovare con molta facilità un mercurio importante forte negli attori certo perché gli attori usano la parola quanto è importante per loro e quanto studio devono fare no per poter essere incisivi arrivare arrivare veramente al cuore di chi li vede nei film no o a teatro per esempio l'attrice Abril Victoria è nata con un mercurio in alto nel cielo appunto si esprime nella professione lei proprio gemelli e tra l'altro ascendente vergine quindi questo mercurio assolutamente molto parlante oppure l'attrice Juliette Binoche anche lei nata con un mercurio al medio cielo pur essendo lei acqua quindi pesce ascendente cancro certamente esprime questa sensibilità artistica oppure l'attrice Uma Thurman anche lei un mercurio al medio cielo proprio in alto di nuovo nella professione lei con sole e ascendente nel segno della vergine quindi anche qui quanto si è espressa nella sua vita di attrice questo mercurio quanto si è espresso veramente tantissimo oppure pensiamo anche all'attrice Marilyn Monroe lei era dei gemelli con un mercurio in gemelli proprio vicino al sole nel settore del lavoro e quindi si è espressa molto bene anche proprio nel canto per esempio per quanto riguarda lei oppure pensiamo all'attore Dario Fo anche lui un mercurio lui ariete con un mercurio proprio lì anche lui nel campo della professione ma mercurio può aiutare anche appunto quando si canta Andrea Bocelli per esempio ha un bel mercurio lui vergine anche lui però con un ascendente scorpione un bel mercurio all'ascendente congiunto a venere l'arte quindi si è espresso anche proprio in lui oppure invece nel campo sempre della comunicazione Maria De Filippi che lavora in televisione un mercurio anche lei all'ascendente tra venere e il sole lei un sagittario ascendente sagittario poi come si può esprimere mercurio si può esprimere ad esempio anche nella scrittura allora Giosuè Carducci il poeta mercurio congiunto a venere in cancro quindi ha espresso proprio nella poesia lui era un leone ascendente toro però mercurio e venere si trovavano in cancro quindi si è espresso proprio nella poesia o ancora vediamo per esempio Woody Allen un sagittario con mercurio in sagittario vicino a Giove che gli ha dato questa grande capacità prolifica lui scrive tantissimo libri sceneggiatore quindi ecco ovviamente mercurio si è espresso molto molto bene nel suo caso vorrei anche invece citare mercurio rispetto agli sportivi certo perché mercurio dà appunto molta molta agilità e quindi può adattarsi benissimo agli sportivi mercurio in realtà riguarda di più la parte alta del corpo e quindi le mani i polsi le braccia più che le gambe che sono sagittariane però comunque dà questa grande agilità allora voglio citare appunto Alberto Tomba il grande sciatore lui un sagittario quindi andava molto bene con l'aspetto delle gambe visto che il sagittario governa quella parte del corpo ma aveva proprio mercurio al medio cielo anche lui oppure il corridore Schumacher anche lui con un mercurio al medio cielo e quindi ecco che mercurio rappresenta proprio la velocità l'amore per la velocità quindi molte volte gli sportivi appunto hanno questo grande amore per la velocità e mercurio gli dà proprio questa grande capacità però mercurio poi si può esprimere anche in modi diversi in personaggi speciali come può essere stato Nostradamus il veggente lui era un capricorno ascendente ariete con mercurio al medio cielo proprio congiunto al sole questo mercurio così in alto gli ha dato questa capacità quindi di sintonizzarsi anche su altre dimensioni abbiamo visto prima abbiamo parlato di questa capacità mercuriana di viaggiare fra le dimensioni ed ecco quindi questa capacità ha espressa molto bene in Nostradamus che poi ha scritto le sue famose quartine quindi ecco era anche molto abile poi nella scrittura ecco mercurio che si è espresso veramente tantissimo in questo personaggio molto speciale e poi un altro personaggio che ho già citato altre volte perché ha delle caratteristiche davvero interessanti nel suo tema è il Dalai Lama lui ha un mercurio molto vicino all'ascendente in gemelli lui ha un cancro ascendente cancro però ha questo mercurio in gemelli che gli ha dato questa grande intelligenza che lo ha portato a quindi non solo ovviamente dato il suo percorso a conoscere chiaramente tutto quello che rappresenta ovviamente il buddismo eccetera ma a saperlo poi tra l'altro portare in occidente saperlo esprimere sappiamo come lui comunque tenga molte conferenze molti incontri come abbia saputo anche aprirsi all'occidente e far comprendere a noi occidentali meglio la filosofia buddista perché lui parla soprattutto di filosofia più che di religione e quindi questa straordinaria capacità proprio di questo personaggio che tra l'altro rappresenta anche molto bene la flessibilità mercuriana perché anche questa è una grande capacità di mercurio essere flessibile no cambiare cambiare e oggi come oggi dove ormai siamo entrati nell'era dell'acquario e quindi l'acquario come segno di aria guidato poi da urano ci impone la flessibilità perché urano l'abbiamo visto anche nei nostri incontri è quell'astro che cambia le cose da un momento all'altro in questa nuova era che ormai è sorta abbiamo tutti molto molto bisogno di imparare a essere flessibili non possiamo più rimanere nella rigidità ma abbiamo bisogno di imparare proprio a cambiare e anche velocemente e mercurio ci insegna proprio questo questa bellissima flessibilità che poi nel nostro corpo è rappresentata dalla colonna vertebrale che tra l'altro collega appunto tutti i chakra e si diciamo proprio collega le energie dal basso verso l'alto e viceversa è proprio questo punto di scambio è l'antenna la nostra antenna quindi proprio la la colonna vertebrale è proprio mercuriana ecco questo saluto intanto anche Lorena che vedo che mi saluta e che si sarà collegata allora Simonetta mi dice dovevo fare l'attrice mercurio al medio cielo in pesci ecco sì oppure puoi usarlo mercurio al medio cielo in pesci puoi proprio usarlo per entrare maggiormente in contatto con gli aspetti del sensibile no questo è molto interessante per te no poter usare mercurio in questo modo no essendo in pesci è molto molto sensibile molto sensitivo ecco quindi abbiamo parlato di mercurio in questi termini adesso nei vari segni e come questo mercurio si è anche presentato nei personaggi noti voglio adesso aprire una piccola parentesi su questo prossimo futuro a proposito di mercurio poi entreremo bene in dettaglio quando farò appunto la diretta legata alle previsioni per il prossimo anno ma mercurio effettivamente nel 2021 soggiornerà a lungo proprio nei segni di aria normalmente mercurio rimane un mese in ogni segno proprio perché è veloce ma nel 2021 farà questi soggiorni più lunghi nei segni di aria quindi sarà un anno molto caratterizzato da questo elemento in cui ognuno di noi siccome poi comunque nel tema ognuno di noi vivrà questo aspetto di mercurio nei segni di aria perché noi abbiamo tutto lo zodiaco comunque nel nostro cielo ecco che tutti saremo appunto messi di fronte al fatto di imparare questi aspetti comunicativi di più questi aspetti quindi anche attraverso la tecnologia questi aspetti anche di flessibilità saremo proprio tenuti e d'altra parte vediamo come i mezzi di comunicazione tecnologici stiano diventando sempre più importanti quindi anche le persone non più giovanissime devono imparare a utilizzarli e proprio gli eventi stessi che cambiano molto più velocemente ci portano a dover imparare proprio questa flessibilità e sarà sicuramente un anno quindi anche molto dettato da scambio di tantissime idee per il fatto che mercurio sarà molto presente nei segni di aria quindi vi do anche già qualche data ed è chiaro che i segni di aria saranno particolarmente avvantaggiati da queste lunghe presenze di mercurio nell'elemento quindi mercurio rimarrà per esempio sarà nel segno dell'acquario nel segno dell'acquario dall'8 di gennaio fino al 15 di marzo poi sarà in gemelli dall'inizio di maggio all'11 di luglio e in bilancia dal 31 di agosto al 5 di novembre quindi vedete che sono dei periodi proprio piuttosto lunghi in cui mercurio si viene a trovare appunto nei segni di aria ecco questo è un aspetto molto importante ma questo aspetto anche dei segni di aria è anche sottolineato dal fatto che proprio in questo mese adesso di dicembre subito dopo la metà del mese Saturno e Giove entrano nel segno dell'acquario dando inizio a un nuovo ciclo planetario di 240 anni in cui questi due pianeti si incontreranno più volte nei segni sempre dell'elemento aria quindi ogni 240 anni Saturno e Giove questi due giganti del nostro sistema si incontrano sempre nello stesso elemento per 240 anni si sono incontrati nel segno di nei segni di terra l'ultimo è stato proprio recente nel segno del capricorno dove sono ancora tra l'altro congiunti ma dopo la metà di dicembre inizia questo ciclo e tra l'altro la congiunzione proprio stretta sarà il 21 di dicembre al solstizio quindi una data importantissima perché inizia questo nuovo ciclo nei segni d'aria che porterà quindi per 240 anni il nostro pianeta proprio ad essere molto più portato a questo accento della comunicazione e della flessibilità mentre questi 240 anni sono stati più portati a un accento sull'aspetto materiale della vita adesso andremo su questo aspetto più delle relazioni delle comunicazioni quindi si apre davvero un altro ciclo il fatto che si apra poi in acquario ci dice appunto che tutto ciò che è inerente questo segno diventerà di primaria importanza ma su questo poi ritorneremo però mi premeva già annunciare questo perché stiamo parlando di mercurio e quindi proprio dell'elemento aria allora c'è una domanda che mi fa Simonetta cosa vuol dire quando mercurio è retrogrado allora vuol dire questo nell'astrologia evolutiva vuol dire che quell'anima già in altre vite ha portato avanti il desiderio di conoscenza ci sono state altre vite in cui già la mente si è dedicata molto all'aspetto della conoscenza e questo aspetto desidera portarlo avanti in questa attuale ma anche vero da un altro lato che come retrogrado vuol dire anche che ci sono degli aspetti che non sono stati ben elaborati in altre vite e in questo caso possono essere appunto a volte un non corretto utilizzo del pensiero quindi rimuginare troppo sugli aspetti magari negativi quindi far praticamente condurre alle emozioni il pensiero invece di essere in grado di condurre il pensiero farlo condurre dall'emozione e quindi poi i pensieri appunto possono diventare contorti confusi eccetera può indicare anche delle difficoltà comunicative che ci sono state in altre vite e quindi occorre lavorare molto sotto l'aspetto della comunicazione proprio su questo sull'aspetto relazionale e quindi imparare appunto a esprimere la nostra verità autentica quindi non avere paura di questo non deformare la realtà magari attraverso appunto la menzogna no questi sono aspetti importanti infatti rispetto a questo voglio citare una frase del bravissimo poeta Gibran nel profeta questo magnifico libro che è davvero un libro iniziatico a proposito proprio della parola no e quindi di mercurio scrive questo quando incontrate il vostro amico per strada o al mercato lasciate che sia lo spirito dentro di voi a muovere le vostre labbra e a dirigere la vostra lingua questo spirito dentro di noi è certamente l'essenza del nostro cuore no e quindi un cuore che già ha saputo lavorare sulle emozioni distorte e quindi sa veramente parlare con il cuore aperto no questo è la voce autentica di cui dicevamo prima proprio no ecco quindi espresso molto molto bene da Gibran quindi con un mercurio retrogrado c'è da fare lavoro su questo proprio no quando si ha un mercurio retrogrado tra l'altro voglio ricordare anche che nel mio testo astrologia meditazione che è un metodo per riequilibrare le energie planetarie attraverso meditazioni e anche altri tipi di pratiche esercizazioni laboratori si può proprio andare a lavorare sui nostri pianeti per migliorarne la vibrazione e quindi migliorare proprio la nostra vita vera mi dice sono acquario e già vedo che la mia rigidità sta scomparendo e sono diventata più flessibile molto bene quindi stai già proprio sentendo questo richiamo che sta arrivando ormai proprio perché come acquario certo Saturno e Giove arrivano proprio nel tuo segno quindi il 2021 è proprio un anno importantissimo per gli acquario allora prima di passare al nostro momento di meditazione e quindi di incontro con l'archetipo planetario ovviamente se c'è ancora qualche considerazione che volete fare qualche domanda scrivete pure ma facciamo un attimo allora facciamo un attimo quindi la sintesi di nuovo di che cosa rappresenta nel nostro cielo interiore quindi mercurio no allora la comunicazione abbiamo detto lo studio anche l'apprendimento il pensiero il tipo di intelligenza il movimento i viaggi quindi anche l'informazione il commercio quindi molte volte un buon mercurio soprattutto in segni di terra può indicare chi è molto abile nel commercio i soldi anche la gioventù l'abilità manuale la coordinazione e anche lo scrivere un eccesso di energia mercuriana può portare quindi a superficialità verbosità quindi si parla troppo no questo è anche un altro aspetto a volte chi ha un mercurio molto molto forte può essere davvero logorroico a volte infantilismo soprattutto questo nei gemelli l'incostanza di cui abbiamo già parlato a volte un'eccessiva razionalità soprattutto questo nella vergine anche un'eccessiva irrequietezza quindi non si riesce mai veramente a stare su una cosa e anche troppa mutevolezza perché anche i gemelli in quanto a questo sono davvero molto mutevoli sono tra l'altro un segno mutevole perché sta proprio a metà fra quella che è un po' la fine della primavera e l'inizio poi dell'estate una mancanza invece di energia mercuriana può portare a difficoltà di apprendimento a dei problemi dicevamo prima comunicativi e a questi pensieri poco chiari o addirittura irreali addirittura irreali proprio e invece per ritornare proprio all'equilibrio di questo archetipo voglio leggervi questo che avevo appunto scritto in un seminario quando si contatta l'intelligenza del cuore perché il cuore ha una sua intelligenza si crea una fusione tra mente e corpo una sincronia tra i due emisferi del cervello tra pensiero e sentire in un feto il cuore comincia a battere prima che si formi il cervello e il cuore ha il suo sistema nervoso indipendente formato da ben 40.000 neuroni quando il cuore manda messaggi al cervello questo comprende e obbedisce ecco quindi si tratta proprio di mettere in sincronia queste due parti ma su questo poi ritorneremo anche nel prossimo incontro parlando proprio dell'astro del cuore che è venere ecco questo è quanto allora io direi che a questo punto non vedendo poi altri commenti particolari e ormai essendo andati piuttosto in profondità nell'esprimere questo archetipo possiamo proprio prepararci ad incontrarlo nel nostro tempio interiore e a vedere appunto che cosa Mercurio ci porterà è sempre un viaggio molto affascinante questo incontro con gli archetipi e vi ricordo sempre non prendete mai sotto gamba l'incontro con l'archetipo perché l'archetipo parte da dentro di noi dalla nostra profondità dal nostro inconscio e viene per indicarci qualcosa insegnarci qualcosa di importante per questo presente della nostra vita e quindi adesso io vi invito a prepararvi mettendovi seduti in una posizione comoda o sdraiati se siete seduti ricordate di mettervi appunto con la spina dorsale piuttosto dritta proprio per mantenere ben in connessione la nostra antenna personale che è appunto la nostra colonna vertebrale e quindi ci prepariamo alla meditazione e io vi auguro appunto un buon viaggio e come sempre potete scrivermi sia su questa chat o in privato se da questa da questa meditazione da questo incontro emergerà qualcosa di non che magari non riuscite a spiegarvi del tutto o semplicemente avete desiderio di condividere io sarò ben felice di ascoltarvi e anche di rispondere eventualmente ai vostri quesiti quindi ci prepariamo ecco e vi lascio un attimo di tempo e intanto io suono il mio campanello proprio per prepararci alla meditazione e vi invito ovviamente a chiudere gli occhi a chiudere gli occhi e a portare la vostra attenzione sul vostro respiro il respiro tra l'altro è proprio molto mercuriano perché è uno scambio tra dentro e fuori portando attenzione al nostro respiro noi creiamo uno spazio interiore più espanso più aperto e vi invito a questo punto proprio a fare qualche respiro più profondo del solito per far entrare proprio l'elemento aria in voi e espirando lasciare andare preoccupazioni o pensieri il lato più razionale per introdurvi appunto nella dimensione interiore fate questi respiri con calma ma profondamente ascoltate anche la vostra antenna la spina dorsale e immaginatela molto allungata da un lato sale verso le dimensioni spirituali mettendosi in contatto con la tua coscienza superiore e dall'altro scende nel grembo di madre terra e tra cielo e terra nel contatto fra queste due dimensioni sta proprio il chakra del cuore prendi contatto con il tuo cuore vedilo vedilo come una rosa aperta con i suoi petali colorati per far sì che sia proprio l'intelligenza del cuore a parlare adesso attraverso di te questa intelligenza del cuore che si esprime attraverso questa rosa del tuo cuore pronta a ricevere i raggi del sole al mattino e nello scambio a dare il suo meraviglioso profumo la sua fragranza e in questa dimensione di calma che si sta creando dentro di te puoi pian piano normalizzare il tuo respiro e viaggiare verso il tuo tempio interiore immaginati proprio arrivare davanti a un bellissimo tempio un tempio antico e nel cortile di questo tempio c'è una vasca con un'acqua taumaturgica dai poteri straordinari e così togliendo i tuoi abiti entri in quest'acqua e lavi così via tutte le densità che hai accumulato a qualsiasi livello quest'acqua ti ripulisce strato per strato l'aura il tuo corpo denso i chakra gli organi interni il sangue le cellule ogni parte viene ripulita da quest'acqua taumaturgica che ti fa sentire in una bellissima leggerezza tutti i pesi le densità se ne vanno accolte da quest'acqua magica che è subito in grado di trasformare in luce le vibrazioni pesanti e senti man mano oltre alla leggerezza una bellissima rigenerazione ora sei pronto sei pronta ad uscire dalla vasca ad asciugarti vigorosamente con un telo bianco preparato per te e ad indossare una tunica anche questa è bianca e preparata per te a questo punto può incamminarti nel cortile del tempio ed entrare nei suoi corridoi li percorri fino a che non arrivi nella camera centrale del tempio il Santa Santorum in questa camera nel centro esatto c'è un sedile in pietra che è collocato su un punto di alta energia vibrazionale sedendoti senti questa energia passare nella tua colonna liberandola dalle sue rigidità e dai suoi ristagni senti anche che questa energia ti dà una carica speciale senti vitalità e forza entrare in te e in alto rispetto a questo sedile c'è un foro un foro che ti collega con le energie celesti con le dimensioni dello spirito e anche da lì scende un'energia lungo la tua colonna che continua a sciogliere eventuali rigidità e ristagni della colonna senti anche bene i tuoi piedi fermi a terra sul pavimento di questo tempio e in questa situazione di pace e di tranquillità e grazie anche a queste energie al contatto con il mondo celeste ecco presentarsi davanti a te l'archetipo di mercurio con molta apertura senza opporre alcuna resistenza accogli mercurio come desidera presentarsi a te le sembianze che si rivelano a te sono quelle giuste per te e hanno un significato per te ecco mercurio arrivare e tu lo accogli dallo spazio del cuore con gratitudine e mercurio è lì ora proprio davanti a te mercurio arriva con la la sua bacchetta magica il caduceo e ora ti mette questa bacchetta magica proprio sulla tua colonna vertebrale rendendola così particolarmente flessibile è questo il primo dono che ti fa le rigidità i ristagni sono già stati sciolti dalle energie del tempio ma ora mercurio ti regala attraverso questa bacchetta magica la flessibilità e tu osserva proprio questa colonna vertebrale muoversi quasi un po' come fosse un serpente che viene incantato da una musica flautata e senti questa flessibilità muoversi in te ascoltala e accoglila bene ora mercurio ha un altro dono per te sempre attraverso la sua bacchetta magica il caduceo questa volta questa bacchetta te la pone sulla fronte sul sesto chakra ponendoti questa bacchetta magica lì ecco che la tua fronte improvvisamente diventa limpida come uno specchio ogni pensiero ogni nuvola se ne va la tua fronte diventa limpida e chiara come uno specchio mercurio vuole farti sperimentare la limpidezza la chiarezza la chiarezza originaria del pensiero la tua fronte è come fosse una sfera di cristallo e così mercurio ti regala anche proprio una sfera di cristallo che ti pone nelle tue mani per ricordarti che la mente all'origine è così chiara assolutamente limpida non c'è nulla da nascondere è tutto lì visibile così vediti proprio anche attraverso i tuoi occhi guardare in questa sfera di cristallo limpida e chiara bene e ora mercurio sempre con la sua bacchetta magica il caduceo va a toccare un altro punto importante il chakra della gola lo tocca e immerge questo chakra nella luce azzurra la luce di pertinenza di questo chakra tutto questo chakra viene immerso in questa luce azzurra che scioglie le paure collegate a questo chakra la paura del non dire la paura di ricevere parole forti negative brucia questa luce azzurra la menzogna le cose distorte dette in maniera distorta brucia brucia cose anche molto antiche che possono essere appartenute a vite precedenti le brucia e le libera è una bellissima luce azzurra e per guarire questo chakra ora mercurio ti dona anche un bellissimo pezzo di turchese che è il cristallo di questo chakra e te lo pone lì proprio sulla gola per guarire questo chakra e far sì che la tua voce diventi autentica che tu possa esprimere te stesso te stessa in maniera autentica vera permetti al turchese di guarire anche cose molto antiche legate alle relazioni lasciale andare non trattenere non ha senso trattenere perché portare cose antiche non necessarie lascia andare con fiducia mercurio è lì davanti a te per aiutarti a guarire questo chakra e a far emergere la tua voce autentica è lì per trasformare mercurio e l'alchimista e sta trasformando per te e in questa trasformazione che sta avvenendo senti forte il collegamento ora della gola con il cuore perché la gola si associa al cuore per guarire anche quelle ferite affettive e così questa energia azzurra si espande anche nel chakra del cuore per portare guarigione e insieme al turchese ora mercurio ti porge un bellissimo quarzo rosa che guarisce le ferite del cuore ora l'energia del quarzo rosa è collegata all'energia del turchese le due si mescolano insieme per portare guarigione nelle relazioni e far sì che la tua voce diventi autentica immagina così ora che questa energia rosa azzurra si espanda anche in tutta la tua aura e arrivi anche da un altro lato a tutte le tue cellule per farle vibrare armoniosamente immaginati immaginati in questo globo rosa azzurro che sta agendo per una profonda guarigione una profonda trasformazione poiché mercurio è l'alchimista e può trasformare qualsiasi densità in energia e vibrazione elevata che regalo stupendo ti sta facendo mercurio mercurio ci insegna proprio e ti sta insegnando che tutto può essere trasmutato sempre tutto può essere trasmutato ecco le parole che ora prima di congedarsi da te mercurio ti ripete come un mantra tutto può essere trasmutato abbi fede sii paziente ma tutto può essere trasmutato non c'è densità che non possa essere trasmutata e con questa parola come mantra mercurio man mano si congeda da te ma sai che lo potrai richiamare a te se ne sentirai il bisogno in un altro momento per continuare il lavoro di trasmutazione rimani per un po' ancora all'interno di questa energia rosa e azzurra con il chakra del cuore palpitante e quello della gola vibrante prenditi tutto il tempo per rimanere ancora un attimo così e poi riaprirai gli occhi ma prenditi tutto il tempo che ti è necessario senza fretta e attimo ecco e anch'io adesso mi congedo da voi come sempre vi ringrazio davvero tantissimo per essere stati con me fino a quest'ora tarda e sarò appunto molto felice di leggere vostre considerazioni se avrete il piacere di farlo noi ci rivediamo qui su bridges of light il prossimo venerdì alle 21 e 30 per incontrare l'archetipo dell'amore delle relazioni affettive l'archetipo del cuore che è venere e sarà anche questo un incontro interessante sempre sorprendente e che ci permetterà di comprendere tante cose e quindi grazie ancora vi auguro un sereno weekend e a presto vi mando tanti tanti baci e una buona notte grazie grazie a tutti voi